Quattro gol, una partita chiusa nel secondo tempo, match ben interpretato dai suoi ragazzi, con un calcio rapido, fatto anche di ripatenze letali. Sì, sicuramente è stata una partita ad altissima intensità, soprattutto il primo tempo, intanto faccio i complimenti al Trani perché anche in emergenza hanno fatto una buona prestazione. Noi abbiamo fatto, penso sotto l'aspetto del ritmo e dell'intensità, una grande partita. Il merito va ai ragazzi perché, come ho sempre detto dall'inizio del ritiro, è una squadra che con grande professionalità ho a disposizione un gruppo di ragazzi importanti dove danno il massimo sempre in allenamento e in ogni partita. Con questo risultato ci si avvicina, verosimilmente al Trani, meno sei punti, ci si allontana, più sette dalla zona play-out. Un campionato molto equilibrato, dove punta il Biceglie? Il Biceglie punta che la matematica ci dice che ancora rischiamo di andare nei play-out, quindi ci sono ancora otto partite da disputare, otto partite importanti perché adesso comunque dobbiamo affrontare le prime della classe, quindi ci saranno otto battaglie. Dobbiamo cercare fin quando la matematica non ci dice che siamo salvi, il nostro obiettivo è quello di arrivare il prima possibile alla salvezza.